Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario più Rabbids Kingdom Battle! Nello scorso video sono successe cose, sono riuscito a battere i due mid-boss che mi hanno dato problemi, ma... Oh, che bella cascata! E non si può girare l'immagine, ma perché non mi fate ruotare la camera? Accidenti a voi! E poi sono arrivato qua al capitolo 7, ho completato il puzzle, e prima battaglia! Ma stiamo per arrivare in territori egizi! Eh sì, infatti, quello è Rabbid Cleopatra, probabilmente. Ah! Sconfiggi tutti i saluti extra perché sono una pippa! Vai! Ma è un segnavento? Eh, più di un segnavento! Oh, no, 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 no! Ah, il tornado che sembra inoffensivo ma non lo è! E diventerà sempre più grande spazzando via tutti quelli che si trovano sul suo cammino! Ma perché? E poi si calma! Ah, quindi bisogna tenere sotto d'occhio i segnaventi! Va benissimo, va benissimo! Allora io mi nascondo qui, che poi non mi nascondo... Toh! Mi stand ipatico! Vado qui, dai! Facciamo una cosa piuttosto veloce, tanto questi ma ci attaccano, ci fanno il culetto nero! Il tornado addirittura ha un suo turno, bravo! Ma così? Ah, quindi viene in... Ah, i segnaventi dicono dove va il tornado! Ah, bene, bene, ho capito allora! Basta scappare allora! Ok, fatta! Insomma, piuttosto facile! Il tornado ha dato una mano alla fine perché poi si erano curati prima! Ma come cinque turni? Ma sono un cretino sono! Vabbè, tanto qua mi sa che non c'è nient'altro! No, proseguiamo, va che è meglio! Vai, monete a tutto spiano e torna la tempesta! Guarda qui che costruzioni che hanno creato i rabid in un nanosecondo! Vabbè, gli ho lasciato il loro tempo, eh! Però, insomma, è un po' troppo, troppo! Intanto qua... Ah, tutte musiche! Ok, va bene, va bene! E a quello, quando riuscirò a capire come cavolo si sblocca, lo farò! Vai, si continua! Giù per il tubo, poi su e poi, altra sfida probabilmente! Funghetto! E, oh, questo è importante! Ah, ma questo è nuovo! Non l'ho mai preso uno così! Tema di Rabid Kong! Trovarlo quindi in questo mondo? Wow! Oh no! I sardelloni con lo scudo! I sardelloni con lo scudo! No! Eh, quanti! Ah, raggiungi la zona! Figola! Eh, sto fresco, mo! Mamma mia, ragazzi! Che squadra! Che squadra! Guarda che combo! Guarda, prendo quello! Vado di qua, salto! E poi lo colpisco! E? Meno uno? Meno uno! Beh, là sopra c'è qualcuno di malvagio, ma Prenderò un po' di schiaffi, ma intanto questo se ne va! Oh! Allora! Allora, sono arrivato! Eccolo qua! Vai, ho fatto! Perfetto! Eh, quattro turni? Ho tre o quattro turni, ma non l'ho contato! Ah, tre turni, vedi! Sono bravo, allora! Ce la so fa, allora! Si può fare! Dai, non potrà mancare poi molto! Giusto? Ehi, là! Eh, queste servono, eh! Per comprare le armi, se no! Ehi, col cavolo che le compri! E si perde malamente! Ui! Ah! Oh! Si torna al fresco, allora, eh! Va bene! Oh, penultimo capitolo! Dai, oggi si finisce! Bene, bene! Pare proprio che la squadrilla del buffo voglia scoprire tutti i talenti, Spawny! Chissà con quale nuova creazione di ristupirà la prossima volta, sono proprio curioso! Meglio che sia qualcosa di efficace! Lui spaventatissimo, poverino! Però non sa chi è nel giusto e chi no! Forza, fagliela vedere! Prendi ispirazione dei tuoi peggiori incubi! Ah, a meno che non è questo il boss finale! O ti farò vedere di cosa dovrai davvero avere paura! Smettere di dimenarti, stupido roditore! Ma i conigli sono rod... Ah, sì, sono roditori, ne? Credo. Finirei per cadere di... Dopo mezz'ora è caduto! Rabbid Peach che consola Bowser Jr. E voi, state lontani da Spawny! Anzi, levatevi proprio dai piedi! Punto! Che mantenga zza, eh! Ho cose da fare e ordini del mio papà da ignorare! Bellissimo! Fino alla montagna gelata e poi ci sarà lo showdown definitivo! Oh, santo cielo! Dove le mette ste monete rosse? Ah, ma io ho capito! Questo ricorda tantissimo il livello delle monete rosse... Ehm... Dov'era che... Eh, non mi ricordo come si chiama la Terra in Super Mario 64! Giustamente non posso ricordarmi! Il mio cervello bacato non può contenere più di quattro informazioni... Per volta! In memoria! Ad uso rapido, oh! Eh! Mannaggia me! Però i nomi dei Pokémon quelli me li ricordo tutti, figuratevi! Beh! Oh, una varma! Consegna urgente! Cosa? Distribuire raffiche di colpi per Rabbid Mario! Dopo vado a vedere! Ma che è Capitan Findus! Ahahahah! Bellissime tutte le reference! Davvero bellissime! Ho assegnato le armi! Anche la secondaria a Rabbid che non ce l'aveva! Vai, salute extra come sempre! Se no non gliela appozzo! Sconfiggi sei nemici! Eh, eh, ma io contro gli sculati ora ho l'arma perfetta, sai? Non te l'aspetteresti mai da me! Ma ora ce l'ho l'arma! Ce l'ho anche buona, sai? Ah, ma era qui! Era il picchiatore del cacchio! È fatta, vai! Finisce così! Peach purtroppo è andata KO! Che devo da fare? No, l'ho contata male sulla percorso di tutto, del tornado, di tutto il resto! Ok, ora se potessimo trovare un fungo Intanto questo qua se la pattina Ah, ma là c'è un fungo in effetti! Allora si fa così! Ah, non posso spostarlo? Ah, ho capito! Bene, bene! Dai, su questa è la fase finale, mi sa, eh! Ah, no, non ancora! Un altro... Oh, che cavolo! Non si finisce mai! Sconfiggi tutti! Certo! Bah! Fin troppo facile! C'ho preso, eh! C'ho preso, ma... Le ho date! Bene! Oh, ora siamo carichi al massimo E quindi c'è l'ultimo livello! Oh! Ha funzionato... Oh! Ha funzionato davvero allora! Ho visto là che c'erano quei blocchi messi così Dico, provo a farlo anch'io Ha funzionato! Non credevo! Altrimenti che ci stavano a fare Che in qualche modo bisognava usarli, no? 20 sferde del potere Ma quanto siete gentili! Praticamente lo porti qui Vai qui Scendi Sbatti, sbatti, sbatti E via Cioè Dai! Eh! Lo dice uno che è una pippa a fa ste cose, eh! Qua Coniglio in scatola Bello, eh! Altre sferde del potere che non fanno mai schifo Stando a quello che abbiamo visto Ora dovrebbe esserci tipo uno Yeti Dato che siamo sulla neve E altrip omnius bio E altrip omnius bio Ok penso che ci siamo E' stato piuttosto interessante Questo enigma più complicato degli altri Ma bastava ragionarci Tre minuti e lo facevi Let's go Pronti ad andare Dai che so carico Eh qua ovviamente la visuale Manco per l'anticamera del cervello posso muoverla Ah ecco perché O lì sa starno di o mangiare non lo so Non è di mio interesse primario Oh Eh bella sta arena Gli acciolem Pensavo uno ieti Però da un frigorifero Ci spara le bevande Facciamo una granita di coca cola Mi aiuto Peach Bella pare Beh insomma Eeeh Cioè si ripende con un frigorifero Io non Ma ce la possiamo fa 500 di vita Vabbè dai Ovviamente nessun danno Perché beh Figuriamoci semmai Allora fammi capire Peach che combina Sguardo regale Aumenta la potenza delle armi E piccerella di gomma Ah E però Vi dirò che tanto schifo non fa Cioè intendo la piccerella Ok questo qua pure fa male Vai Mio mini bolide Colpisci Insomma questo O gli deve crollare lo scudo Prima o poi Perché Oppure dobbiamo Arrangiarci Ah congela sicuro Vabbè il salto amico Mio cura Si muove poco Si muove Salto amico Ci spostiamo sempre più lontano Da lui Ah no Lei non cura Cacchio Vista dell'eroe Magari riesco a fargli qualche danno Quando si muove dopo Non ho idea Non ho assolutamente idea Ah si muove tanto però lui Senti ci provo Anche a costo di farmi male Non ci arrivo Vabbè la piccerella di gomma Si è ricaricata Quindi direi che possiamo farcela Un po' di dannetto lo facciamo E qui dietro Posso fargli male Eh si Perché lui solo uno per volta può far danno Può difendersi Dico Su due fronti Scudo perché non si sa mai Ma lui si difende Ma lui si difenderà Mario Si difende C'ha paura di Mario Per qualche ragione Ah ah ok Si gira Eh ma possiamo fargli male ora Tanto sveglio non è sto tizio Mi sono sbagliato a premere il pulsante Volevo avvicinarmi di più Potere M dai Penso che ce la facciamo con sto turno Eh Eh si si ha fatta E' fatta Via Buono eh Cioè Ah Cioè si è curato A quello era lo scudo quindi Eh Dai Meno Meno 40% di danno Mi sembrava infatti Un mico ma Non riporta Non riporta così facile Ah e ora escono anche altri nemici Certo Bravi Bravi tutti Bravi Boia Sguardo regale di Peach Facciamo un bel danno E anche con lei dai Questa Ce la portiamo a casa dai Beh è fatta allora Scusami È fatta allora O deve perdere anche l'altra arma Ma ha perso le gambe Ma no Ma che fregatura è Scusami Ma che modo è Ah si cura lei Interessante Sì vabbè ma c***o Ma 4 e 5 Ma l'ha curato tutto L'ha curato A posto È fatta Vai Molto più facile Questa Seconda prova Ok Ah bastava colpirla Oh si Siamo davvero onorati Da avere Peach con noi Posso suggerire di fare Il nostro castello Così da prepararci Per il prossimo incontro Sarebbe un'idea Principesca Beh qualche Quanto fine Devo ammettere Che la prima prova È stata diludente Ma la seconda È andata velocissima E liscia come l'olio Molto più Perché ho capito Come posizionarmi Ho capito Che se non fai lo stupido Ti puoi mettere Con due personaggi Ai lati E allora Lui non sa Chi parare È giusto Certo può prima parare Uno può parare l'altro Ma non può parare entrambi Eh Peach si è molto buono Come personaggio Ti cura ogni volta Che fai salto team Oh La salute degli eroi È aumentata 24 armi disponibili Le spede Alcune le ho fatte Altre no E Ok Perfetto Continuiamo Oh L'azione solleva Le stupi dei rabbis Buono Allora il team Devo assolutamente Cambiarlo E devo mettere Peach Allora Direi di provare subito La nuova abilità Ah Vabbè Beh Così è molto più facile Tutto Allora Ora so come fare Va benissimo Va benissimo Così allora Bene Proverò a fare Qualche altra statua A vedere A provare Allora Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Trovate sempre Il link Per Instagram E Telegram E se ancora Non siete iscritti Al canale Magari fateci un piccolo pensiero E noi ci vediamo Ovviamente domani Con un nuovo video Bye bye Ehi Ehi Grazie a tutti.